Oggi ti racconto come ho perso velocemente 5 chili grazie a questa potente bevanda che agisce mentre dormiamo. Per questa potente ricetta avrei bisogno di una caruta media, sbucciola e tagliare a pezzi. Avrei bisogno anche di due limoni che taglierai anche essi a pezzetti. Il limone fa bene alla salute dell'apparato digerente e migliora il processo di digestione. Stimola la produzione di succhi gastrici in uno stomaco e quindi il cibo consumato si decompone più rapidamente e i grassi non si accumulano nell'organismo. Se non l'hai ancora fatto lascia un like e seguici. Ora che conosci i suoi benefici aggiungi gli ingredienti nel frullatore, versa mezzo un litro d'acqua e frulla alla massima velocità per circa 3 minuti. Una volta liquefatto passa il composto al colino, bevi un bicchiere di questa super bevanda la sera prima di andare a letto per una settimana e mi ringrazierai per tutta la vita. Condividi questa ricetta con amici e parenti e non dimenticarti di seguirci per tantissimi altri timidi naturali. Grazie. 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 Grazie.